16 dicembre Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Salmo 91.1 All'ombra dell'Onnipotente Il Salmo evidenzia la condizione necessaria per godere la benedizione di Dio. Le benedizioni del Signore, infatti, non si attuano automaticamente per il fatto che Egli può ogni cosa, ma sono precedute da condizioni chiare e precise. Per godere della comunione con Dio e, di conseguenza, della Sua cura e protezione, è necessario conoscerlo personalmente ed affidarsi totalmente a Lui. Non coloro che vanno a Dio in occasioni particolari possono sperimentare la potenza del Suo gradevole ristoro, ma soltanto chi, rinunziando ai rifugi fallaci di questo mondo, sceglie di fondare la sua vita terrena e la speranza della vita eterna nella parola di Dio può albergare al sicuro presso l'Onnipotente. L'ombra di Dio non è un rifugio provvisorio nel quale e dal quale andare e venire rimanendo nei nostri peccati. Esso è il luogo in cui, consapevoli del nostro fallimento e della nostra indegnità, il Padre Celeste ci introdurrà se torniamo a Lui confessandogli i nostri peccati. Caro lettore, decidi di dimorare stabilmente nel ritiro dell'Altissimo e albergherai per sempre all'ombra dell'Onnipotente. E anche quando passerai per le situazioni più infocate, la tua vita sarà al sicuro.